Il rifugio Vito è simpaticissimo come sempre, ho fatto colazione all'interno, Alex è là, adesso lo raggiungo, cerco di raggiungerlo. Grande! Dai siamo sulla schiena d'asino, vento qua a morte. Dai, direi che manca veramente poco, no? Siamo al colletto quasi, c'è la madonnina, sempre lei lassù, e voilà, dai. Buono, deposito sci, epa, qua, un bottoncino, oppa, siamo quasi. Ultimi passaggi, prima anche la pavetta sud, che è dietro di me, eccola là, ci siamo quasi, eh, due minuti ci siamo. Il solito passaggino peloso, che noi ci vediamo in 448. Aspettiamo Agex, Agex, il passaggio ostico. Cazzo che uno spettacolo, eh, strapiombi di qui, passaggio esposto, strapiombi di qua. Qua c'è gente in vetta, francesi, tutti francesi. Vabbè, adesso vediamo, eh. Bella, bravo. Tranquillo, no? Sì, sì. Vieni. Grazie. Bravo. Complimenti. Aspetta. Panoramica, oggi giornata, come era previsto, bellissima. Siamo arrivati su, anche abbastanza in tempi buoni. Grande Agex, con le sue ciaspolette, anzi, con le castre. La passione di Cristo. Alla fine ci è arrivato anche lui, eh. Onore al merito. Bisogna un po' abbattere qua, perché ha nevicato un botto. Bisogna creare la pista, non l'ha fatta nessuno, la facciamo noi. C'è quella calata lì, cazzo. Sono atturata da quei gradini, però, va. L'erene, eh. Dobbiamo un po' pulire dalla neve. Dobbiamo aprire con calma. Ah, beh, la roccia calda. E ce la facciamo, eh. Secondo me sì. Qua c'è il terrazzino con fiori, eh. Che è là in alto. Agex sta scendendo. E, boh, proviamo st'avventura di qua. Ingetta. Questo salto qua, che è la parte impegnativa, poi siamo sulla cresta sommitale. E io vado in lei, no? Neanche dieci, secondo me. Però, non vorrei sbagliarmi, eh. Piccano. No, non serve. Però, se c'è già nello zaino, si può tenere lì. Lì, ho visto che è ben appigliato. Io mi ricordo che trovavo gli appigliati. È giusto l'esposizione. Così. Io d'accordo, eh. Andavi, corda. Perché là è tutto pieno di neve. Eh, la cresta sarà piena di neve, sì. Allora, io lì, ho arrampicato un pezzo lì. Sì. Ma, nel senso che poi non ce la facevo perché non avevo mani, era tutto pieno di neve. Poi ho spaccato la gamba dove c'è la mano. Ah. Io invece ero salito così, poi ho fatto la cresta. Dai. La cresta. Ci arriviamo. Spettacolo. Bravissimo. Vettanol del Grampa. Grande. Che storia. Vettanol del Grampa. Vettanol del Grampa. Oh. Second time. Grandi. E là, c'è la vetta a sud. Ancora, in quella spianata là, secondo me. C'è un vino. Monte Rosa. Milan è un gran bel Milan, di là. E qui, la mia bella Madonina. Di là, il Monviso. Di là, il Valle di Rem. Dieciari della Tribolazione. Spaccatissimo. Vabbè, andiamo. Siamo assicurati. Allora, mi ricordo che ve l'ho tenuto qua. Sì, bene, senso, cazzo. L'altra volta l'ho fatto un po' così, stavolta. Siamo un po' più sicuri, eh. Qua c'è in gettina. Sì, dai. Mi prende il rinvio? Sì, sì, te lo tolgo già, sì. Tanto a te non serve. Qua. Lievica un po' in testa. Qua, ricopro il rinvio. Et voilà. Ce l'attacchiamo. Qua. Andiamo qua. Posso svincolarmi? Mi do la corda. Agica, che si cala. Tanto qua, mi ricordo che... Mano qui. Mano qua. Terrazzino. Qua c'è questo appiglio segreto. Ecco. E ora, carattina fatta. Posso mica andarmi a vedere e recuperare il mio moschettone intanto? Tanto tu fai da solo, no? Cazzo, ho dimenticato un moschettone lassù. Vedo se riesco a recuperarlo. Non me l'ho zanzato. Bravi, grandi. Questo è il mio, eh. Lo recupero. Ecco la, già che si dà. Ci prepara la calata. Adesso vediamo, eh. E intanto sono alla madonnina. Vai, curvacci. Che buono. Il got, penso, è curvacci, eh. Guarda, un po' di briciole. Vai. Mangio io, mangiate anche voi. Il got è amico di Cucuvano. Sono diventati i miei amici. Due nove amici. La tela che si toglia la supervetta. Con le nostre impronte abbiamo aperto la via. Tutta la cresta. E supervetta, filatissima. Ora giù. Ora già si cala, eh. Intanto il curvacci mi fa accompagnare. Ma ciao! Buone. Calata perfetta. Nella nord del rampa. Ragia che sei lì. La nord del rampa. E là! Si sta calando lì, eh. Si ammaspa un po'. Un attimo da... Ah, dei sassi! Wow! Che uscita! Guarda tu! Ripidone, castelletto. E sia su, eh. E anche il rock. Magari ce lo portiamo a casa. Rock and roll! Ecco la rocca del rock. Oh, faccio l'addio. Oh, sì, sì. Un po' una roba plastica, così. E là c'è la venta, eccola là. Tac. Guarda, guarda. Vetta del rock. Altro 4.000. Tac, fatto. Oggi ci si è sparati tutta la cresta del rampa. Le due cime. Siamo scesi, ecco la ecco qua c'è. Da lì a sfondare qua sotto e poi tutto il torino del rock fino a... Ecco lì c'è il testimone di Vetta. Cervino sullo sfondo, monte rosa. E noi siamo qua su. Bravi. Wow! Non ho sparso il ghiacciaio. Ma niente paura. È Ajax. Date una medaglia a quest'uomo che se la merita. Ma niente paura. Ah! Ah! Grazie.